Ciao a tutti ragazzi, oggi primo giro dopo la mia avventura Ostia Pescara se non avete visto il video metterò magari qua il link in descrizione andatelo a vedere faccio questo video perché vi annuncio una mia nuova sfida cercherò di farla l'8 e il 9 di settembre quale sarà? cercherò di fare 24 ore tutti sapete dove, già l'avevo annunciato a Tor Vergata, non so se partirò l'8 sera per finire il 9 sera o il 9 mattina per finire il 10 mattina sicuramente il 9 la farò devo vedere alcune cose, devo mettere ancora a punto alcune cosette però sicuramente il 9 sarò là a Tor Vergata quindi se volete venirmi a trovare, venite a trovare il 9 a Tor Vergata la sfida comprenderà 24 ore appunto in bicicletta cercherò di fare almeno, dico almeno 500 km perché stavo facendo il calcolo sul Carmin e ci sono circa 40 metri di dislivello a giro forse sono un po' di meno comunque sto calcolando fra i 3000 e i 3800 metri di dislivello quindi non è proprio un piattone ok ragazzi, nei prossimi giorni vi dirò se l'8 partirò l'8 sera o il 9 mattina ok? mi raccomando seguitemi seguitemi anche su Strava che ancora siamo pochi e come al solito iscrivetevi al canale è gratis, ciao!